Noi abbiamo un lavoro in corso sul programma e abbiamo alcuni obiettivi molto molto forti che stiamo facendo studiare tecnicamente e che vorremmo presentare nei prossimi giorni a cominciare da una zona franca fiscale per la Sicilia e una candidatura della Sicilia alle Olimpiadi come luogo che possa ospitare le Olimpiadi e altri punti programmatici molto importanti. Stiamo mettendo a punto un programma, sul piano delle coalizioni sembra sempre più emergere a destra una prevalenza dei veti più che dei voti di Salvini e Meloni in Sicilia e questo è oggettivamente un grande problema per i moderati perché se anche in Sicilia che è una classica terra di moderati comandano gli estremisti diventa tutto più complicato. Quindi di interlocutore? Stiamo ancora lavorando sul programma. Stiamo ancora lavorando sul programma.